Siamo proiettati verso un ampliamento dei servizi, sono tutti indirizzati a una fruizione più sicura, ma anche più semplice, dell'area marina protetta. Un istituto che ha delle regole, ha dei vincoli, sappiamo bene le grandi criticità che stiamo affrontando sulla pesca, siamo molto concentrati su questo, però l'area marina è anche altro, in questo caso stiamo presentando con un passo avanti uno strumento digitale che è una web app, che consentirà per tutte le barche in transito, quindi sprovviste di autorizzazioni e di abbonamenti, di realizzare in pochissimi minuti dal telefono l'acquisto della postazione, quindi un ormeggio sicuro anche da un punto di vista dei controlli. Mare morto e basta o anche in altre zone? No, in tutte le zone di stazionamento e di ormeggio dell'area marina protetta, c'è la possibilità di acquistare il posto giornaliero due giorni, tre giorni, una settimana, un mese e lo stagionale. Quindi anche andiamo a, io credo, a fare un'operazione particolarmente meritoria dal punto di vista della semplificazione burocratica, amministrativa, se ne parla tanto, questo è un esempio concreto di che cosa significa semplificare. semplificare anche la vita di persone che oggettivamente fino a oggi hanno avuto grosse difficoltà, anche col rischio di sanzionamento, perché immaginarsi una imbarcazione che arriva dalla Francia il sabato sera, tutto era, meno che semplice, acquisire delle autorizzazioni dagli uffici chiusi. Grazie.